Allora visto che come abbiamo detto ormai la stragrande maggioranza lo segue indifferita non stiamo ad aspettare nessun numero e partiamo fin da subito con quelli che hanno voluto essere puntuali e quindi buonasera a tutti diario di bordo del giorno 115 15 giugno 2020 giornata importante sotto mille punti di vista lo vedremo nel corso di questa diretta intanto una notizia curiosa riprendiamo a volare avevamo detto nei giorni scorsi con i dati che paragonavano certe situazioni di oggi rispetto a quelle prima di questa brutta avventura e avevamo detto di quanto gli aeroporti ne avevano sofferto compreso il nostro aeroporto regionale più importante quello di caselle ebbene come qualcuno avrà sentito anche dai telegiornali regionali questa mattina credo intorno alle 10 e 16 è arrivato un volo dalla Moldavia e quindi ce ne sono poi stati altri in arrivo dalla Germania ne sono partiti molti verso diverse città italiane e quindi anche questa è una cosa che poco a volta torna alla normalità i responsabili dell'aeroporto illustravano che nelle prossime settimane dovrebbero ripartire avvicinarsi di nuovo a regimi pre covid almeno quelli nazionali mentre invece quindi nell'estate ci sarà questo sviluppo di voli verso città italiane mentre invece si rimanda più verso l'autunno per la ripresa dei voli internazionali oggi questa mattina molti di voi l'hanno già visto con delle notizie che sono uscite sui quotidiani online e domani sarà ripreso dagli altri organi di informazione questa sera ne ha parlato anche il Tg3 c'è stato un importante incontro presso la provincia di Asti sul settembre astigiano e la regione Piemonte ha bisogno questo sostiene la regione questo ha sostenuto il presidente Cirio ha bisogno di ripartire dai suoi simboli e la duia il paglio il festival delle sagre lo sono da sempre quindi l'incontro di questa mattina in provincia fra le istituzioni e gli enti fra varie istituzioni e gli enti organizzatori di queste manifestazioni hanno voluto sottolineare questo presente l'assessore partiamo dal presidente presidente governatore Alberto Cirio ve l'avevo detto prima il vice presidente Fabio Carosso assieme all'altro astigiano che abbiamo in giunta l'assessore Marco Gabusi ma presente presente anche Vittorio Appoggio assessore a commercio turismo e cultura fra le istituzioni oltre al sottoscritto il presidente della provincia Lanfranco il presidente della camera di commercio Goria il direttore dell'ente Langhe Monferrato Eroero Mauro Carbone e l'ho lasciato per ultimo il presidente della fondazione cassa di risparmio di asti Mario Sacco perché l'ho lasciato per ultimo perché ci siamo visti questa mattina nel pomeriggio la fondazione della cassa di risparmio di asti ha avuto le elezioni del presidente Mario Sacco è stato riconfermato e quindi va davvero a lui un in bocca al lupo per un buon lavoro un buon proseguo si sono fatti tutte le istituzioni unite per questo territorio grandi cose in questi ultimi anni sono convinto che proseguiremo su questa strada ci sono ancora tante altre cose da fare e visto quello che è successo in questi mesi ancora con più forza di prima dicevo incontro importante delle varie istituzioni io voglio ripetere alcuni passaggi del mio intervento perché credo in alcuni passaggi di essere fra è stato frainteso da chi poi ha riportato sugli organi di informazione e quindi io innanzitutto ho ringraziato la regione e ho ben specificato che non è da tutti i giorni avere quattro componenti della giunta regionale presenti sul nostro territorio la nostra rispetto altri è una piccola provincia avere il presidente il vicepresidente due assessori e segno di considerazione le ho ringraziati anche per le parole spese verso le nostre tradizioni le nostre manifestazioni le nostre feste quello che asti e le istituzioni astigiane fanno fanno da tanto tempo fanno bene fanno sempre meglio che avrebbero voluto continuare a fare sempre meglio implementando sempre più il ritorno turistico e il ritorno economico delle delle stesse si è parlato molto è partito un 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 dibattito il sapere che la regione c'è così vicino ci aiuta ad andare avanti ancora più convinti ancora più forte ho fatto presente che le istituzioni astigiane hanno condiviso vari passaggi compreso il momento in cui la camera di commercio ha deciso di annullare l'edizione del 2020 del festival delle sagre e della duia condiviso che cosa vuol dire che il presidente della camera di commercio renato goria dopo averne parlato con il suo consiglio con la sua giunta si è confrontato con le istituzioni soprattutto comuni di asti e fondazione cassa di risparmio di asti che erano e sono state da sempre vicine alla camera di commercio nell'organizzazione di questi importanti eventi pilastri fondamentali del settembre astigiano e hanno condiviso con lui dei ragionamenti in un momento due mesi fa quando c'erano 180 magari 150 positivi ricoverati in ospedale quando addirittura ospitavamo positivi da altre province quando il futuro sembrava molto più incerto di quello di oggi quando da tutte le parti si chiedeva si è chiuso il campionato di calcio sono chiuse tante altre cose la camera di commercio ha ritenuto che quelle risorse che di solito stanziava per organizzare questi eventi insieme agli altri enti potessero essere destinati a favorire le imprese perché nulla come le imprese hanno sofferto in questo momento vero le persone le famiglie molti non hanno più dei cari molti sono mancati però abbiamo sempre detto che sarà importante garantire il lavoro a quelli che l'hanno perso o a quelli che sono in cassa integrazione o quelli che non sanno il futuro dell'azienda presso la quale lavorano e quindi per fare questo bisogna essere vicino alle aziende la camera di commercio è la casa di tutte le aziende e quindi abbiamo condiviso un passaggio in cui in quel momento non si riteneva opportuno immaginare un festival delle sagre una duia che per natura sono persone sono socializzazione sono assembramenti nel mentre andavamo dire alla gente non assembratevi ecco in quel momento secondo me il presidente della camera di commercio nel dimostrare sensibilità e distanziare risorse assieme alla sua giunta e assieme al suo consiglio alle imprese ha dimostrato secondo me di aver centrato quello che è il compito della camera di commercio e quindi tutte le istituzioni gli sono state vicine con lui hanno condiviso questo passaggio quindi nessuno oggi si è permesso di dire no forse tutti eravamo consapevoli diverso stato per me il discorso del paglio io il paglio non l'ho annullato non ho detto neanche che si fa ci sono stati confronti con i rettori e oggi ho avuto modo di spiegare il perché il paglio oltre a essere una manifestazione organizzata dal comune di asti vede degli attori che sono indispensabili i comitati paglio che servono al fine di far sì che la cosa si possa svolgere al meglio e che coinvolga la città che abbia quei ritorni che che si immaginano per cui nel confronto con il comitato di paglio che ad oggi non hanno manifestato idee comuni in un senso in un altro e che comunque hanno manifestato vista la distanza ancora dal eventuale corsa di settembre di mantenere ancora in piedi il sogno di quella tradizione per cui la differenza è stata semplicemente questo ma tutti siamo qui in attesa di capire alcune cose quali sono queste cose che vogliamo capire benvenga la regione che ci dice buttiamo il cuore oltre l'ostacolo benvenga una giunta regionale sensibile vicina alle istituzioni locali e che ben ha parlato delle nostre manifestazioni che sono effettivamente fra le più importanti del piemonte benvenga eventualmente la disponibilità degli enti locali e delle istituzioni locali per cercare di organizzare se si potrà queste cose ma noi abbiamo detto con forza questa mattina che primo le situazioni da un punto di vista sanitario dovranno consentirlo quindi oggi dire stiamo pensando di organizzare non vuol dire che questo effettivamente si farà abbiamo fortunatamente dei dati buoni positivi abbiamo un trend positivo che sta andando in una direzione dopo vi dirò il giorno storico che celebriamo oggi per i dati che ci sono è una prima volta ma ve la spiegherò dopo nei numeri dei positivi e dei decessi e dei guariti però in questo ragionamento dovremo sempre tenere conto che ci sarà un monitoraggio costante di 15 giorni in 15 giorni per cercare di capire come sta evolvendo e come certe cose si potranno fare o non fare stabilita la disponibilità degli enti a patto che appunto vi siano le condizioni sanitarie e questo è stato un punto fisso anche degli esponenti della regione Piemonte questa mattina abbiamo anche fatto presente che così come l'anno scorso vi erano stati incontri con il prefetto con il questore per vedere che indipendentemente dalla parte sanitaria la parte della sicurezza rispondesse a tutte le normative e ci consentisse di celebrare una festa, celebrare una tradizione e non far sì che quella magari si trasformi in una tragedia perché non si sono fatte alcune cose che si volevano fare e c'è stata massima disponibilità tutti gli anni anche di queste altre istituzioni per garantire l'ordine pubblico allora anche uno sguardo a quelle che saranno le eventuali normative e richieste che da questi enti ci arriveranno e sarà un altro elemento per dire bisognerà rispettare anche quelli per poter fare organizzare il nostro settembre astigiano una cosa che mi permetto poi che ci siamo permessi di dire è che noi istituzioni locali possiamo mettere il know-how, possiamo mettere degli spazi, possiamo mettere del personale, possiamo mettere anche qualche risorsa ma sulle risorse purtroppo abbiamo detto la Camera di Commercio ha fatto una scelta per aiutare le imprese ricordo che la fondazione della Cassa di Risparmio quest'anno molto probabilmente anche se si è detto probabilmente ad ottobre si vedrà non percepirà il dividendo dalla banca perché lo Stato ha deciso che le banche non distribuiscono il dividendo e si rafforzino patrimonialmente e quindi magari non potrà disporre delle risorse degli altri anni il Comune in tutte queste settimane vi ho detto quante minori entrate ci sono e non è soltanto il Comune di Asti ma l'ho sentito urlare da tutti i sindaci in tutta Italia che chiedono al Governo aiuti anche le pubbliche amministrazioni perché se no in autunno non saremo in grado di garantire alcuni servizi quindi l'incognita risorsa, risorse c'è ed è lì che alla Regione abbiamo chiesto di giocare il suo ruolo ci credi, siamo contenti che ci credi, noi mettiamo tutte queste altre cose magari anche qualche risorsa ma ti chiediamo anche un aiuto e l'aiuto giustamente non lo si chiede a babbo morto ma ci siamo accordati di chiederlo sulla base di un progetto per cui ci siamo lasciati con l'idea che gli enti locali si trovano in questi giorni elaborino un progetto di un settembre astigiano rispettoso di tutta una serie di cose e di situazioni e che la prossima settimana, il giorno 24-6, mercoledì ci sia di nuovo quindi una riunione con gli stessi soggetti di oggi per verificare se di fronte a questo progetto che tiene in considerazione tutta una serie di situazioni ci sono le condizioni con l'aiuto della Regione di celebrare i nostri momenti più importanti dell'anno di festa, di colore, di vitalità, di socializzazione e compagnia bella per quanto mi riguarda, per esempio quando dicevo spazi sono arrivato a ipotizzare che se, visto che dal mio punto di vista forse tecnicamente in questo momento quella che rischia di avere più problemi nella sua realizzazione potrebbe essere il Festival delle Sagre mi sono permesso di dire che se il problema è non far concentrare 40 proloco in una piazza una soluzione nel caso in cui tutti gli altri parametri funzionino e ci diano delle garanzie magari si potrebbe immaginare di spostare le casette un po' in giro per la città 3-4 casette in piazza Alfieri 2-3 in piazza San Secondo 2 in piazza Statuto 3 in piazza Roma 6 in piazza Cattedrale piazza Medici e così via allargando quindi e consentendo le proloco nelle loro aree di potersi gestire al meglio teniamo anche presente che la normativa è in continua evoluzione come diremo dopo l'ultimo decreto l'ultima ordinanza regionale ricepisce un DPM che praticamente ci danno regole da qui fino a metà luglio e da qui a metà luglio in base all'andamento di questa epidemia se continueranno i dati positivi probabilmente andrà con il successivo DPCM e con le successive ordinanze regionali ad allargare ulteriormente le maglie o nel caso in cui abbiamo sbagliato qualche cosa a restringerle ulteriormente quello che voglio dire ai cittadini che queste manifestazioni vanno intese come un modo per riprendere a vivere come un modo per far dire che ci siamo un modo per cercare di risollevare l'economia del nostro territorio ma tutto questo non può mettere a discapito gli sforzi che abbiamo fatto fino ad oggi quindi tutte le istituzioni locali ma credo che su questo abbiamo avuto l'ok anche della regione sono state ben chiare si può pensare a realizzare un progetto si può immaginare a fare le manifestazioni del settembre astigiano se ci sono tutte le condizioni ma la prima dovrà essere quella delle condizioni igienico-sanitarie e degli eventuali rischi che manifestazioni come queste possono portare quindi tenersi pronti e preparati perché se ci saranno le condizioni non ci terremo indietro per fare oltretutto di questi giorni ho sentito sui giornali molti che riparlano che se va avanti così si cercherà di far vedere anche agli spettatori allo stadio le partite quindi si va verso un'apertura da tutte le altre parti se queste condizioni dovessero davvero migliorare e ci fosse questo miglioramento generale con altre situazioni della vita di tutti i giorni che ripartono perché rimanere indietro e perché noi invece avere delle restrizioni però questo era per dire che non c'è ancora nulla di scontato oggi non abbiamo deciso che si faranno oggi abbiamo dato la disponibilità a ragionare per verificare se ci sono tutta una serie di condizioni che ci consentono di farlo è logico che se si farà qualcosa sarà un format diverso e questo bisogna già subito metterlo in preventivo ma anche qui le istituzioni locali sono state ferme Camera di Commercio Comune e Fondazione Cassa di Risparmio anche la provincia di Asti si è detta della stessa idea non abbassare il livello delle nostre manifestazioni quindi non fare tanto per fare se il format dovrà cambiare dovrà comunque essere una cosa importante dignitosa che se ne parli e che ci renda orgogliosi di averle organizzate ripeto lo dico l'ultima volta sempre che la situazione sanitaria lo consenta quindi per capire se si farà a settembre a stigiano queste iniziative in che modo si faranno invito tutti ad attendere mercoledì 24 giugno quando ci sarà un'ulteriore riunione con la regione dove le istituzioni locali arriveranno con delle idee e dove eventualmente la regione deciderà come intende quelle idee cercare di finanziarle perché diventano delle realtà o altrimenti aiutare a realizzarle quindi non tutto il carico cadrà sulla regione ognuno farà la sua parte detto questo la notizia dopo che volevo darvi è è un po' una curiosità sull'inquinamento che può aiutare anche a fare degli altri ragionamenti perché quante volte si discute facciamo l'isola pedonale perché così non passano più le macchine in certe parti della città le macchine passano non si può più respirare ci uccidono le polveri sottili e altre cose allora non Maurizio Rasiero non una forza politica non qualcuno che si è improvvisato ma l'ARPA Piemonte dice lockdown le verità di ARPA Piemonte e che cosa dice le PM10 colpite più dagli impianti di riscaldamento che dal traffico e vi leggo alcuni passaggi di queste considerazioni che l'ARPA Piemonte ripeto ente deputato a fare certe rilevazioni ente che quindi ha la massima credibilità nel campo si è permessa di fare nelle ultime ore la qualità dell'aria è influenzata soprattutto dagli impianti di riscaldamento e non dal traffico veicolare mentre l'acqua del Po non è naturalmente considerazione a livello ragionale quindi si parla del più importante fiume della regione mentre l'acqua del Po non è migliorata a causa dello stop delle attività umane insomma il lockdown in Piemonte avrebbe causato una forma di suggestione collettiva da una parte ma nei fatti non ci sarebbero stati grandi cambiamenti meglio per l'ambiente lo rilevano i nuovi dati di ARPA Piemonte che hanno preso in analisi le dieci settimane di chiusura a causa del coronavirus confermando alcuni aspetti in parte già emersi ma portandoli del tutto alla luce cioè prima si pensavano già delle cose oggi che abbiamo avuto la necessità di stare tutte queste dieci settimane chiusi fermi è evidente perché ci sono dei dati oggettivi che lo hanno confermato relativamente alle PM10 colpa dei riscaldamenti il primo spetto di queste indagini dice che il primo spetto riguarda la qualità dell'aria quindi secondo l'ARPA infatti anche se moltissimi automobili sono rimaste parcheggiate nel periodo di stop le PM10 sarebbero rimaste sostanzialmente stabili a causa di un maggior uso del riscaldamento in abitazione dove la gente è stata costretta a trascorrere più tempo abbiamo sempre detto che il traffico veicolare incide molto meno sulle PM10 afferma Angelo Robotto direttore generale di ARPA Piemonte rispetto a quanto possa incidere per esempio sulle emissioni degli ossidi di azoto i dati dicono che non c'è stato impatto anzi è stato il meteo a incidere come dimostra il passaggio delle polveri desertiche del Mar Caspio che hanno addirittura la situazione dati oggettivi che io semplicemente trasferisco perché una istituzione deputata a fare certe cose li ha rilasciati pubblicamente sulle strade mi permetto di dire anche questa curiosità perché quante volte lava le strade pulisci le strade tutti lo fanno in Cina in Giappone dalle altre parti strade pulite meno rumorose un altro tema caldo in questi periodi di pandemia è connesso alle strade sulla loro pulizia innanzitutto siamo stati dice l'ARPA Piemonte tra i primi a dire che l'uso di ipoclorito sarebbe stato un errore e gli altri ci hanno poi seguito afferma sempre con orgoglio Roboto un uso massivo soprattutto sarebbe stato dannoso per l'ambiente rilasciando cloro mentre avrebbe fatto ben poco per la lotta al virus noi seguendo questi consigli e quelli di altri soggetti avevamo detto interveniamo su panchine interveniamo su maniglie interveniamo su alcune cose che magari la gente tocca ma non interviamo sulle strade perché ci sono dei soggetti che ci dicono che è controproducente e così abbiamo fatto qualcuno ci ha persino insultato abbiamo preso dei nomi ritenevamo di fare bene e siamo confortati ancora da questi dati mentre invece cosa è calato penso che lo abbiamo capito tutti è il rumore e quindi veramente i decibel si sono bassati di 4-5 in certe realtà che corrispondono al 60-70% di calo complessivo dovuto a meno auto che girano dovuto a meno movida e dovuto a tante altre cose allora detto questo volevo dirvi che nelle pillole di questi giorni anziché i dati ho soltanto fatto un minuto di intervento per dire quanti positivi e quante cose cambiavano tutti i giorni ho citato un giorno i circoli un giorno l'attività dei ragazzi l'altro giorno le RSA per dire che con l'ultimo DPCM e quindi con il relativo decreto del Presidente della Giunta regionale del 13-6 il numero 68 capitavano delle cose nuove a partire da oggi ebbene lo stesso avevo detto che revocava il 66 il decreto regionale 66 del 5-6 e che recepiva appunto il DPCM dell'11-6 non avevo però detto lo dico oggi che questa disposizione ha decorrenza da oggi fino al 14-7 quindi tutte queste aperture che sono partite da oggi avranno decorrenza da oggi durano fino al 14-7 e immaginiamo che quindi come è successo per tutti gli altri da qui al 14-7 in base all'andamento del virus e al suo diffondersi o al suo venir meno ci saranno ulteriori aperture oltre ulteriori passi indietro quindi io immagino che fin dai primi di luglio sapremo da che parte si andrà oggi c'è stato ho letto una notizia che mi permetto di ripeterla perché parte proprio da oggi la possibilità di aderire vi è il bando per lo sport il programma triennale 2020-2022 in materia di sport approvato dal consiglio regionale con DCR 70 del 5-5 predisposto in attuazione alla legge regionale 22 dicembre 95 numero 93 che reca norme per lo svolgimento dello sport e delle attività fisico-motorie ha definito le linee prioritarie per promuovere gli interventi di politica sportiva da realizzarsi in Piemonte nel triennio 2020-2022 per la promozione della pratica sportiva e delle attività fisico-motorie in materia di impiantistica sportiva il programma ha previsto misure straordinarie per l'anno 2020 a sostegno dello sport in considerazione dell'emergenza sanitaria Covid-19 che ha determinato un fermo attività con forti ripercussioni economiche anche per gli operatori sportivi la giunta regionale ha quindi approvato i criteri di attuazione della misura 5.1 del programma pluriannale sopra citato misure straordinarie per lo sport emergenza Covid-19 con il quale si intende dare una risposta urgente alle esigenze dello sport dilettantistico che necessita di un sostegno immediato per la riapertura delle attività e gli impianti sportivi le finalità il bando è finalizzato alla parziale copertura delle spese correnti dei soggetti sottoindicati sostenute nel periodo previsto dal bando per il loro regolare funzionamento per l'organizzazione dell'attività e per la fruizione in sicurezza delle sedi degli impianti e delle attività sportive fisico-motorie i soggetti beneficiari sono di due diverse tipologie la tipologia associazioni società sportive dilettantistiche senza fini di lucro affiliata ad una federazione sportiva una disciplina sportiva associata e o un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI la tipologia B federazioni sportive discipline sportive associate enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si parte da oggi per la domanda da questa mattina alle 9 era possibile farle pervenire non oltre il 3 di luglio 2020 alle ore 12 c'è il web naturalmente il sito cercarlo sulla regione Piemonte ci sono anche le schede che aiutano alla compilazione dello stesso bando mi sembrava utile come notizia per le tante società sportive che faticano a riprendere o che hanno bisogno magari di aiuti per portarne a tornare a essere quelli che erano prima e dare delle risposte a tanti cittadini che praticano lo sport ricordo che ieri dalle 8 alle 13.30 non più sotto i porti cianfossi ma in piazza libertà è tornato il mercatino mensile agroalimentare asti, gusti e sapori ieri vi erano 14 banchi ricordo che quindi anche questo è un altro segnale che si sta tornando alla normalità il prossimo appuntamento come mi ha fatto sapere la Simona Bottero del nostro ufficio che si occupa proprio di questo è il 12 luglio domenica 12 luglio sempre con gli stessi orari i numeri della giornata avevo detto che erano importanti sono importanti in regione Piemonte sono importanti anche qui da noi a parte i nati che sabato sono stati nessuno quindi nessun bimbo nato e domenica ieri quattro bimbi nati non ci sono positivi in rianimazione nel nostro ospedale in questo momento in tutto l'ospedale sono presenti sei positivi che sono ricoverati presso gli infettivi relativamente ai numeri 1864 sono i positivi non abbiamo positivi in più rispetto a ieri 248 sono i decessi non abbiamo decessi in più rispetto a ieri questa è una giornata storica importante da festeggiare perché per la prima volta sia i positivi sia i decessi sono rimasti quelli di ieri abbiamo avuto nei giorni scorsi dei giorni con nessun decesso ma con uno o due positivi alcuni giorni anche con magari nessun positivo in più ma con uno o due decessi questo è il primo giorno in cui non abbiamo positivi in provincia di Asti e non abbiamo nuovi decessi anche i risultati della regione sono importanti perché anche in regione Piemonte non ci sono stati in tutta la regione decessi oggi e in tutto il territorio regionale soltanto due positivi in più di ieri relativamente ai guariti la provincia di Asti passa da 1279 a 1281 io ringrazio tutti voi per l'ascolto spero che le informazioni siano state ancora una volta interessanti e importanti poco la volta ci stiamo avviando alla normalità non è finita non sono arteriosclerotico che ve lo continuo a ripetere non mi diverto a raccontarvela tutto sta per tornare a quello che era prima a patto che si continuino a mantenere le distanze lavarsi le mani a prendere tutte quelle precauzioni che da mesi che ci stiamo raccontando un minimo sforzo di tutti può consentire quanto prima di tornare tutti a fare le cose che facevamo in precedenza buona serata a voi e le vostre famiglie ci vediamo per la diretta di mercoledì alle 20.15 e le vostre famiglie e le vostre famiglie